Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete richiesto sul Google Docs. Questa storia, per quanto mi riguarda, è davvero agghiacciante. Oggi sono qui per parlarvi del caso di Robert Willie Picton. Robert Willie Picton nasce il 24 ottobre del 1949 dai suoi genitori Leonard Picton ed Helen Louise Picton. Viene però chiamato Willie da quasi tutti quelli che lo conoscono. Quindi, Willie nasce con il cordone ombilicale avvolto intorno al collo e non è mai stato visitato per vedere se avesse subito dei danni cerebrali. Sua madre è sempre molto protettiva nei suoi confronti, soprattutto perché il ragazzo è visto come un po' lento di comprendonio, quindi non sappiamo davvero come questo trauma che ha subito alla nascita possa averlo influenzato crescendo. Sua sorella in realtà lo descrive come un mammone. Willie in realtà non ottiene un grande successo a scuola, molti pensano che abbia un livello di intelligenza molto basso. È davvero molto timido e molto più tranquillo dei suoi fratelli. Cresce con un fratello di nome David e una sorella di nome Linda. I due ragazzi crescono nella fattoria di famiglia in cui allevano maiali, tuttavia Linda effettivamente trascorre la maggior parte della sua vita vivendo in città mentre frequenta il collegio. Le loro vite dunque non potrebbero essere più diverse. L'allevamento dei maiali è un'azienda della famiglia Picton. Nel 1905 William Picton, che era il bisnonno di Willie, aveva acquistato un terreno vicino ad un ospedale psichiatrico a Port Coquitclom nella Columbia Britannica in Canada. Qui avevano deciso che avrebbero allevato maiali, quindi ben presto quel terreno aveva preso forma diventando rapidamente un'azienda familiare generazionale. I suoi figli crescono allevando maiali nella stessa fattoria così come i figli dei suoi figli. Poi arriva la fine degli anni 50 e il padre di Willie, Leonard, si ritrova costretto a vendere la loro fattoria e trasferirsi per far posto ad un'autostrada che verrà costruita nella zona. Così la famiglia raccoglie baracca e burattini e in qualche modo sposta la sua fattoria, acquistando 40 acri di palude per soli 18 mila dollari. Una volta lì l'attività di allevamento di maiali riprende e in effetti è proprio qui che sia Willie che suo fratello David cresceranno per la maggior parte della loro infanzia. La madre di Willie, Louise, è una maniaca del lavoro quando si tratta della fattoria. Supervisione ai bambini aspettandosi che trascorrano lunghe ore badando ai maiali e ad altri animali anche nei giorni di scuola. Giravoce che ad un certo punto, durante la sua infanzia, ogni volta che Willie vuole nascondersi da qualcuno striscia nella carcassa sventrata di grandi animali. Willie non ha molti amici. A scuola in realtà è in una classe speciale per bambini che richiedono maggiori assistenze e alla fine abbandona gli studi del tutto a 16 anni. La sua igiene personale è carente, sia a scuola che successivamente, quando sarà un uomo. Willie puzza di letame, animali morti e sporcizia. Per di più i suoi vestiti non sono mai puliti. Ciò è in parte dovuto al fatto che in realtà Willie ha paura delle docce. Secondo lui questa paura nasce proprio dal fatto che sua madre insisteva sempre affinché si facesse il bagno. Willie imparerà le lezioni più importanti fuori da scuola. La prima lezione arriva quando è solo in realtà un ragazzino. Mette da parte la sua paghetta e compra un vitello come animale domestico. Lo ama tantissimo e se ne prende cura ogni giorno. Sembra che abbia finalmente trovato un po' di felicità, una connessione emotiva. L'uomo infatti dirà «Volevo dormirci sopra. La notte giocavo con il suo polpaccio e tutto il resto. Era mio amico. Willie vorrebbe tenere quel vitello per il resto della sua vita, come amico. Due settimane dopo aver preso il vitello, Willie torna a casa da scuola e non riesce più a trovare il suo nuovo amico. Così fa il giro della casa, guardando dappertutto. Alla fine chiede alla sua famiglia dove sia finito il suo vitello e rimane inorridito quando gli suggeriscono di guardare nella stalla. Willie infatti in precedenza aveva detto al suo amico di stare lontano dalla stalla perché lì non succedevano cose belle. Mai. Quando finalmente Willie trova il coraggio di andare a dare un'occhiata nella stalla, vede il suo vitello a testa in giù, ripulito e macellato. È così sconvolto che non riesce a rivolgere parola alla sua famiglia per quattro giorni. Rifiuta anche con rabbia la loro offerta di comprarne un altro con i soldi che hanno a disposizione per la carne, dicendo che l'unico vitello che vuole avere accanto è quello che è stato macellato. Willie in seguito dirà che questo evento in particolare ha cambiato il suo modo di pensare per il resto della sua vita. L'uomo infatti dice finalmente ho capito che non saremo qui per sempre, saremo qui per il tempo per cui saremo qui. Più tardi Willie impara un'altra oscura lezione, quando David suo fratello ha 16 anni va a fare un giro con il camion di famiglia. Durante la guida investe un vicino di casa. In preda al panico torna a casa e racconta ai suoi genitori cos'è successo. Ebbene piuttosto che tornare indietro per aiutare quel ragazzo o addirittura chiamare un'ambulanza, Louise, sua madre, chiede a suo figlio maggiore di accompagnarla sul luogo dell'incidente. Trovano così il ragazzo investito che giace sul ciglio della strada privo di sensi, ma vivo. E Louise fa rotolare il ragazzo in un fosso e lo lascia lì a faccia in giù in una pozza d'acqua. Quel ragazzo chiaramente muore annegato. Quando Willie lascia la scuola trova lavoro come apprendista macellaio. Il padre di Willie muore nel 1978 e sua madre lo segue nel 1979. I fratelli, allora ventenni, ereditano l'allevamento di maiali con la sorella. Linda, non volendo avere nulla a che fare con la fattoria che disprezza così tanto, vende la sua quota a David e Willie. Il terreno agricolo, vi ricordo, è stato acquistato per sole 18 mila dollari nel 1963. Ebbene, nel 1994 la fattoria vale 7,2 milioni di dollari. Nell'autunno del 1994 i fratelli decidono di vendere una parte della fattoria per 1,7 milioni di dollari. Nello stesso anno anche la città di Port Coquitclom acquista un pezzo della loro terra per 1,2 milioni di dollari e la trasforma in un parco. Nel 1995 il distretto scolastico di Port Coquitclom acquista un pezzo dell'allevamento di maiali per 2,3 milioni di dollari per costruire la scuola elementare Blackburn. Il resto della fattoria, o meglio, un pezzo di proprietà di 6,5 acri, rimane i due fratelli che continuano ad allevare maiali per soldi. David a questo punto si trasferisce nella casa di famiglia, mentre Willie si trasferisce in una roulotte nelle vicinanze. Ebbene, sappiate che la fattoria in sé non è proprio quella che vi immaginereste nella vostra testa. Questa fattoria è molto fangosa, edifici decrepiti che stanno a malapena in piedi, insomma, sembra il set di un film horror. Alla fine i fratelli trascurano le operazioni agricole e usano parte dei loro soldi per convertire un grande finile in Piggy's Palace, ossia una specie di centro per eventi che registrano come organizzazione senza scopo di lucro per evitare determinati regolamenti. Affermano di organizzare eventi e funzioni per conto di gruppi meritatevoli come organizzazioni di servizi e organizzazioni sportive. In realtà stanno effettivamente organizzando questi rave party folli con un sacco di sostanze, alcol e passeggiatrici. Bevono, vendono alcol contrabandato e fanno uso di parecchie sostanze illecite. Il lungo capannone di latta su Burns Road viene visitato da quasi tutti. a Port Coquitclum e non solo da persone sgradevoli. Ci sono due sindaci che sono noti per andare spesso in visita. Ci sono diversi membri del consiglio comunale, aziende locali, leader civici. Anche i liceali vanno al Palazzo Piggy per partecipare a funzioni, balli, concerti e altri tipi di eventi ricreativi. Tuttavia, quelle non sono le uniche persone che trascorrono del tempo lì. La grande maggioranza di coloro che festeggiano sono individui con una vita molto travagliata. Hanno problemi con le sostanze e con l'alcol, sono passeggiatrici. Willy offre loro dei soldi e un posto caldo dove stare in cambio di qualunque cosa gli serva o qualunque cosa voglia da loro in quel momento. Verso la metà degli anni 90, Willy non è più un allevatore di suini commerciale. Fondamentalmente è solo un uomo ricco che vive la sua vita. È vero, alleva maiali, ma ora è più un hobby che un business. Compra dei maiali, li ingrassa, li macella e vende la carne agli amici. Quindi sì, sono presenti dei maiali nella fattoria che vengono allevati e macellati. Ma in me non macelleranno solo dei maiali in quella fattoria. A questo punto Willy ha un sacco di soldi, ma dal suo aspetto in effetti non si direbbe mai che sia un uomo benestante. Ha lunghi capelli sporchi e arruffati, indossa spesso abiti molto sporchi e tute molto sporche. In pratica sembra uscito dal film Texas Chainsaw Massacre. E mentre le sue feste incredibili si svolgono all'allevamento di maiali, accade qualcosa intorno al Downtown Eastside di Vancouver. Il Downtown Eastside di Vancouver è l'area più povera del Canada. Questa zona è disseminata da gente poco raccomandabile che vende sostanze, è molto sporca e viene spesso chiamata Low Track o Skid Row. Detengono la più alta concentrazione del Canada di prostituzione, problemi di dipendenza, senza tetto e disturbi mentali. Più o meno nel periodo in cui Willy inizia ad organizzare queste feste, le passeggiatrici iniziano a scomparire. Lo sapete meglio di me e abbiamo potuto constatare questo fatto grazie a diversi altri casi. Se a sparire è una prostituta, le persone, le forze dell'ordine, non ci fanno troppo caso. Purtroppo quelle sono persone dimenticate che vivono ai margini della società. Ma in questo caso qualcosa cambia perché i numeri sono così grandi che le persone iniziano davvero a rendersene conto e a preoccuparsi. Ovviamente in questo caso vi sto parlando delle persone. La polizia sa che quelle donne hanno uno stile di vita alquanto pericoloso, quindi all'inizio non notano alcuna connessione tra una sparizione e l'altra. Le autorità pensano che queste donne semplicemente abbiano deciso di cambiare area e di trasferirsi da qualche altra parte. Fortunatamente le persone che notano davvero queste sparizioni continuano ad allarmarsi sempre di più, quindi cercano di tenere al sicuro le donne che sono ancora in circolazione. Ripetono in continuazione che questa situazione non è normale. Queste donne non sono solo andate via, queste donne stanno scomparendo in circostanze insolite. Patricia Gay Perkins è la prima a scomparire nel 1978, ma, ascoltate bene, viene dichiarata scomparsa solo nel 1996. Già con questo primo fatto potrete immaginare quanto sia difficile tenere traccia di queste donne. Altre sei donne scompaiono tra il 1978 e il 1995. Poi il ritmo aumenta nel 1995 con tre nuove scomparse. Poi ecco che ne avvengono altre tre nel 1996, altre sei nel 1997 e altre otto nel 1998. Altre due donne vengono dichiarate disperse nel 1999. Le vittime hanno dai 19 ai 46 anni. La maggior parte di loro viene descritta sui manifesti delle persone scomparse come persone note con problemi di dipendenza e passeggiatrici. Il che è davvero triste perché, a mio avviso, sono prima di tutto esseri umani. Alla fine si contano, ahimè, 29 passeggiatrici scomparse in un periodo di tempo alquanto breve. Tutte, tra l'altro, lasciano le loro case, i loro conti in banca, i bambini in affido, gli assegni sociali. Ora, queste donne, ovviamente, hanno un disperato bisogno di queste cose per vivere, in particolare dei loro assegni sociali. Quindi, insomma, risulta strano che tutte queste donne, nessuna esclusa, siano partite senza prendere nulla. C'è davvero qualcosa che non va? C'è davvero qualcosa che non torna? La questione delle donne scomparse viene portata all'attenzione nazionale nel marzo del 1999, quando Jamie Lee Hamilton, una transessuale ed ex passeggiatrice, che ora è la direttrice di un centro di accoglienza, convoca una conferenza stampa per portare le sparizioni all'attenzione del pubblico. All'inizio, amici e parenti delle donne scomparse, incolpano la polizia e le autorità per aver ignorato la situazione. Ebbè, mi dispiace dirlo, ma come dargli torto? Alcune famiglie sono semplicemente frustrate dalle indagini della polizia, che in pratica sono inesistenti, quindi assumono degli investigatori privati. Il grosso problema, in questo caso, è che queste donne sembrano davvero scomparse. Non ci sono corpi, non ci sono testimoni, quindi non c'è davvero nulla su cui indagare. Poiché, a quanto pare, non è avvenuto alcun delitto o di partita sospetta su cui indagare, non possono e non vogliono utilizzare altre risorse per indagare su queste donne e la loro scomparsa. Girano voci per la città sul fatto che potrebbe esserci un serial in agguato che prende di mira le passeggiatrici. Molte donne che lavorano agli stessi angoli delle strade delle ragazze scomparse parlano di quanto amino frequentare l'allevamento di maiali di Willie Pickton e il palazzo dei maiali. Sempre più spesso emerge il nome di Willie Pickton e la polizia sta per ottenere il primo vero indizio sugli eventi reali che stanno accadendo in quell'allevamento di maiali. Il 23 marzo 1997 la passeggiatrice Wendy Lynn Eistetter cerca di farsi sentire da una coppia presente in un'auto vicina alle strade secondarie dell'allevamento. Da quello che questa coppia può vedere Wendy sta sanguinando e stringe in mano un coltello da macellaio chiedendo aiuto. All'inizio pensano che abbia qualche problema, forse è disturbata oppure è sotto l'effetto di qualche sostanza. In ogni caso la coppia scende dalla macchina e notano che Wendy ha delle manette ai polsi e non sta affatto bene quindi chiamano l'ambulanza. In ospedale Wendy spiega esattamente cosa le era successo raccontando che Willie l'aveva manettata durante un incontro intimo e aveva cercato di pugnalarla a morte. Era scappata dopo aver subito diverse lacerazioni da un coltello. Dice alla polizia che lo aveva disarmato ed era stata in grado di pugnalarlo con la sua stessa arma prima di scappare. Stranamente Willie cerca cure per la sua coltellata a Legal Ridge Hospital che è lo stesso ospedale in cui si trova Wendy. Il punto è che Wendy è al pronto soccorso. Così la polizia arresta Willie con l'accusa di tentato omicidio. Tuttavia non rimane dietro le sbarre molto a lungo. Viene rilasciato su una cauzione di 2000 dollari che ovviamente riesce a pagare molto facilmente. L'accusa viene respinta nel gennaio del 1998 e no, non sto scherzando. Non riescono a trovare Wendy credibile perché ha problemi con le sostanze ed è una passeggiatrice. Quindi credono più a Willie che a Wendy. E quindi Wendy si rifiuta di testimoniare. La prima volta che ho letto di questa situazione non potevo credere che le accuse fossero state ritirate. Era il 1998. Così tanti omicidi orribili che non erano ancora avvenuti avrebbero potuto non avere mai luogo se solo avessero creduto alle parole di Wendy. Questo è un enorme errore da parte dei tribunali perché significa che Willie può continuare a fare ciò che stava facendo alle donne più vulnerabili della società nel suo allevamento di maiali. E sebbene la polizia lo tenga d'occhio non hanno prove di nulla. Sicuramente non abbastanza per perquisire effettivamente la sua proprietà. Così prosegue la ricerca di queste donne scomparse. Dopo l'accoltenamento di Wendy un uomo di nome Bill Hiscoe, il quale aveva problemi di alcol e sostanze che però ora sta risolvendo, vive e lavora nella fattoria e inizia a sospettare di Willie. Sente e vede alcune cose nella fattoria che non gli vanno affatto bene. Quindi va a parlare con gli investigatori. Dice loro che Willie è un personaggio piuttosto strano e a parte l'aggressione a Wendy Bill spiega che ci sono delle ragazze scomparse. E questo è un dato di fatto. E guardate un po', nel camper di Willie sono presenti parecchie borse con documenti di identità di diverse ragazze. Bill dice agli investigatori che a Willie piace frequentare sempre il centro della città per le ragazze. La polizia chiaramente registra la dichiarazione di Bill e un detective lo accompagna all'allevamento di maiali per indagare ulteriormente. Tuttavia i successivi rapporti di stampa indicano che la fattoria viene perquisita ben tre volte e non viene trovato nulla, quindi Willie rimane in archivio come persona di interesse. Ma non hanno prove sufficienti per svegliarlo seriamente. Nel frattempo a Vancouver l'elenco delle donne scomparse si allunga. Sembra che non abbia mai fine. Il 31 luglio del 1999 gli investigatori riescono a presentare il caso nel programma televisivo America's Most Wanted, in cui offrono una ricompensa di 100.000 dollari per eventuali suggerimenti che potrebbero portare all'arresto di Willie. Questo caso porta la sede del programma a ricevere oltre 100 chiamate, tuttavia si pensa che solo 20 di questi suggerimenti siano utili. Nonostante ciò finalmente iniziano a scavare, iniziano finalmente ad indagare sul serio e quindi a ricercare altri potenziali sospettati al di fuori di Willie. Uno di questi sospettati alternativi è niente meno che il serial Green River di Seattle, accusato della morte e della scomparsa di 49 donne, per lo più passeggiatrici o fuggiasche, tra il gennaio del 1983 e l'aprile del 1984. Il 30 novembre 2001 le prove del DNA portano all'arresto del 52enne Gary Lion Ridgeway. La polizia di Vancouver però non ha prove che lo colleghino alle donne scomparse a Vancouver. Un altro candidato che stanno tenendo d'occhio è Dayton Lyron Rogers. È un uomo sadico e il suo soprannome è l'assassino della foresta di Malala. Perseguita le passeggiatrici intorno a Portland, in Oregon, nel gennaio del 1987. Nell'agosto dello stesso anno uccide otto donne e ne ferisce 27. Viene incarcerato il 7 agosto del 1987. Tuttavia viene respinto come possibile sospettato nei rapimenti di Vancouver, elencati prima di quella data. Poi c'è Kate Hunter Jesperson. È della Columbia Britannica, nasce nel 1956 e si sta addestrando per entrare a far parte della Royal Canadian Mounted Police, ma viene ferito e quindi ritenuto inadatto al servizio. Così diventa un camionista. Si mette in viaggio attraversando il Nord America e inizia ad uccidere delle donne. Viene soprannominato l'assassino della faccia felice. Viene arrestato nel marzo del 1995 e al momento del suo arresto afferma di aver ucciso circa 160 donne, descrivendole come cumuli di immondizia scaricati sul ciglio della strada. Quindi ovviamente odia profondamente le donne. Tuttavia, sfortunatamente, ancora una volta non trovano alcun collegamento tra lui e le vittime di Vancouver. Nel settembre del 2001 la polizia di Vancouver e l'ERCMP formano una task force congiunta chiamata Project Even Handed. Sostanzialmente questa task force prova a sostituire la polizia cittadina durante l'indagine perché hanno la necessità di concentrarsi solo su queste donne scomparse. Sta accadendo tutto molto rapidamente e ci sono troppe donne scomparse per essere ignorate. Ormai le donne ad essere svanite nel nulla sono 31. Più o meno nello stesso periodo un altro testimone si fa avanti raccontando una storia davvero raccapricciante. Questa storia descrive Willie Picton come un uomo che uccide e si sbarazza delle donne. Fondamentalmente questo ragazzo lavora da poco tempo nella fattoria e sostiene di aver visto delle manette nella camera da letto di Willie. E un congelatore nel suo finile un po' particolare. In quel congelatore c'è della carne che questo ragazzo definisce strana, forse non è carne animale insomma. Poi arriva un altro ragazzo che sostiene di aver sentito una storia inquietante da una sua amica, Lynn Ellingsen. Lynn quindi gli aveva detto di aver visto qualcosa di orribile che non avrebbe mai dimenticato. Era andata con Willie al Downtown Eastside per aiutarlo a trovare una passeggiatrice. Avevano incontrato una donna che sembrava davvero nervosa e riluttante a salire sul mezzo di Willie. Ma quando aveva visto Lynn le aveva chiesto se anche lei stesse andando lì. E Lynn le aveva detto di sì, quindi questa donna si era tranquillizzata e aveva deciso che sarebbe stato sicuro andarci. Al macello c'erano sostanze, alcol e tanto divertimento o almeno così pareva. A questo punto Willie e questa passeggiatrice sconosciuta senza nome scompaiono in una stanza sul retro. Lynn decide di alzarsi per andare a cercarli. Mentre cammina per la proprietà in uno stato alquanto pietoso perché non è affatto lucida, nota quello che pensa sia un corpo femminile appeso ad un gancio per la carne nella stalla. Willie è in piedi accanto a questo corpo impegnato a tagliare strisce di carne dalle gambe. Più tardi Lynn dirà agli investigatori che si era resa conto che il grasso umano era giallo. Il che era un dettaglio molto specifico che dava alla sua storia molta credibilità perché non sono molte le persone che sanno che il grasso umano è davvero giallo. Quando Willie vede Lynn sbirciare la minaccia dicendole che l'avrebbe appesa lassù, su quel gancio se l'avesse detto a qualcuno. Quando la polizia sente questa storia chiama immediatamente Lynn per confermare la sua storia. Lynn però dice loro che si rifiuta di testimoniare contro Willie e aggiunge che l'intera dichiarazione non corrisponde al vero. In pratica dice che si è inventata tutto. È chiaro che Lynn aveva deciso di tacere perché aveva paura di cosa sarebbe potuto succedere se avesse rilasciato una dichiarazione contro Willie. Ma fortunatamente questa situazione, parecchio fumosa, almeno per gli agenti, sta per diventare più chiara. Quello che sta per essere scoperto è molto peggio di quanto chiunque potesse immaginare. Willie si circonda di un gruppo di amici e dipendenti sempre più numeroso che vive e lavora nella fattoria. Sono tutti soggetti con problemi di alcol e di sostanze. Queste sono persone che ovviamente hanno bisogno di aiuto, mentre Willie li usa per mantenere i suoi segreti. In tutto ciò vorrei ricordarvi la storia di Wendy Lynn Eisteter, una passeggiatrice che era stata aggredita nell'allevamento di maiali. Era stata manettata e pugnalata, tuttavia era riuscita a scappare, solo per finire nello stesso ospedale di Willie. Anche lui stava cercando cure mediche perché Wendy era riuscita a pugnalarlo durante la fuga. Willie era stato arrestato e accusato, tuttavia il caso era stato archiviato quando Wendy non si era presentata in tribunale. Se Willie fosse stato condannato allora vi assicuro che molte vite sarebbero state salvate perché Willie aveva appena iniziato all'epoca. Un elenco di nomi di donne scomparse compilato dalla Task Force Congiunta RCMP e Vancouver Police Department Missing Women Task Force inizia nel 1978 con la scomparsa di Lillian Jean Odair, il cui caso non è mai stato ufficialmente collegato a Willie per mancanza di prove. Il primo dei casi nell'elenco collegato a Willie è Diana Melnick, vista l'ultima volta il 22 dicembre 1995. Willie afferma di aver ucciso 45 donne, tuttavia viene accusato per gli omicidi di 26 donne. Le 26 sparizioni ufficialmente attribuite a Willie Pickton si sono verificate per anno come segue. Nel 1995 scompare una donna. Nel 1996 scompare un'altra donna. Nel 1997 scompaiono 6 donne. Nel 1998 scompaiono 4 donne. Nel 1999 scompaiono 5 donne. Nel 2000 scompaiono 2 donne. Nel 2001 scompaiono 7 donne. Altre sparizioni prima e durante questo periodo non vengono ufficialmente collegate a Willie per mancanza di prove. Per le abitudini delle vittime la maggior parte di queste sparizioni passa inosservata in me. E a dirla tutta, anche se si nota l'improvvisa assenza di una donna, di solito passano mesi prima che venga denunciata la polizia come scomparsa. Una donna di nome Lynn Ellingson, come già vi ho detto precedentemente, aveva ammesso di aver visto una donna appesa ad un gancio per la carne e meccanellata nell'allevamento di maiali di Willie. Questo fatto agghiacciante non può essere confermato perché Lynn continua a dire che sta mentendo. Lynn aveva vissuto e lavorato nella fattoria e mentre era lì aveva assistito a parecchie situazioni non troppo limpide, diciamolo. Le donne entravano e uscivano dalla fattoria, c'erano documenti di identità casuali lasciati in giro macchiati con quello che sembrava essere sangue. E in realtà dopo aver assistito al corpo sul gancio, Lynn era stata minacciata da Willie. Le aveva detto che sarebbe stata la prossima ad essere scuoiata e macchiata nella fattoria se non avesse chiuso la bocca. Ma non era solo la paura a impedire di raccontare alla polizia quello che aveva visto. In effetti Lynn aveva cercato di corrompere Willie. Sì, questa ragazza era abbastanza coraggiosa da chiedergli soldi in cambio del suo silenzio. Era dipendente dalle sostanze, sinceramente tutto ciò che le importava davvero in quel momento era riuscire ad ottenere i soldi per comprare la sua prossima dose. E poiché Willie era davvero molto affezionato a Lynn, aveva accettato questo accordo. Ci vorranno più di tre anni prima che le indica la polizia la verità su ciò che aveva visto. Quindi, per ora, la polizia non poteva far altro che tenere gli occhi su Willie. Tuttavia, nessuno era disposto a dar loro ulteriori informazioni, ahimè. E così la polizia era rimasta in silenzio a guardare in attesa di qualcosa che avrebbe consentito loro un maggiore accesso a Willie e alla fattoria. Mentre aspettavano, Willie continuava a commettere atti atroci. Wendy Crawford, Jennifer Farminger e Georgina Papin scompaiono tutte nel 1999 e vengono ignorate fino a quando la polizia elenca i loro nomi nel marzo del 2000. Un mese dopo, il 25 aprile del 2000, gli investigatori riconoscono la scomparsa nel febbraio 1999 della 32enne Brenda Wolfe. Tiffany Drew, di 27 anni, scompare il 31 dicembre 1999, ma viene dichiarata scomparsa l'8 febbraio del 2002. A volte sembrava un caso senza speranza, senza risoluzione, ma la polizia di Vancouver non molla. Lentamente, le scomparse cominciano a fare la differenza, se non altro per la velocità con cui vengono denunciate le persone scomparse. Dawn Kray, di 42 anni, viene vista viva l'ultima volta nel novembre del 2000 e dichiarata scomparsa l'11 dicembre. La 43enne Deborah Lynn Jones scompare il 21 dicembre del 2000 e la sua scomparsa viene registrata il giorno di Natale. Poi c'è Patricia Johnson, viene vista viva l'ultima volta il 27 febbraio 2001. La 34enne Yvonne Bohen viene inserita nell'elenco il 21 marzo 2001, solo 5 giorni dopo la sua scomparsa. Heather Bottomley, una 24enne descritta nei rapporti della polizia di Vancouver come un soggetto a rischio di suicidio violento, viene dichiarata scomparsa lo stesso giorno in cui è effettivamente scomparsa, il 17 aprile 2001. Heather Chink scompare lo stesso mese, seguita da Angela Julesbury a giugno e da Serena Abortsway a luglio. La 34enne Diane Rock scompare il 19 ottobre 2001 e viene dichiarata scomparsa il 13 dicembre. Mona Wilson, di 26 anni, viene vista l'ultima volta il 23 novembre 2001. Il 6 febbraio del 2002 finalmente la polizia spicca un mandato di perquisizione per armi da fuoco illegali presso la proprietà dei Picton. Willie e suo fratello David Picton vengono arrestati e la polizia ottiene un secondo mandato di perquisizione. È giunto il momento di cercare i corpi delle donne scomparse. Vengono arrestati e la polizia ottiene un secondo mandato di perquisizione. È giunto il momento di cercare i corpi delle donne scomparse. Ci vorranno diverse settimane per indagare per bene nella fattoria perché la maggior parte delle prove saranno nei dettagli. La fattoria è piuttosto grande e fra l'altro il numero delle vittime è davvero tanto alto. A causa dei suoi metodi diciamo particolari per sbarazzarsi dei cadaveri, Willie lascia pochissime prove per la polizia da raccogliere e utilizzare contro di lui. Utilizzo un metodo insolitamente bizzarro, almeno ho letto così in tutte le fonti, ma non credo sia così bizzarro e insolito. In ogni caso, tagliamo la testa al toro. Che ha fatto Willie? Ebbene, ha dato in pasto tutti i corpi delle donne scomparse ai maiali. I maiali mangiano senza problemi un cadavere umano e avere un allevamento di maiali significa solo una cosa in questo caso. Willie Picton ha i suoi impianti di lavorazione della carne nella sua proprietà. Willie Picton ha dei mezzi a sua disposizione per sbarazzarsi di un cadavere rapidamente e facilmente. C'è un'altra voce che gira, non è mai stata confermata dalla polizia, ma si dice che Willie avesse eliminato le sue vittime riducendoli in carne macinata, mescolandola con il maiale e aveva venduto la carne a persone ignare che vivevano nelle vicinanze. La polizia non presta, come già vi ho detto, molta attenzione a questa voce, ma questa è la storia che viene raccontata quando si parla di questo caso, anche se a mio avviso questa rimane solo una voce perché la polizia non trova alcun tessuto umano nei suoi tritacarne. Arriviamo al 22 febbraio del 2002. Le autorità prendono Willie in custodia per due capi di imputazione, ossia omicidio di primo grado per la morte di Mona Wilson e Serena Abbotsway. Trovano la testa, le mani e i piedi di Mona in un secchio nella porcilaia. Trovano il DNA che appartiene a lei e a Willie su un attrezzo per procurarsi piacere attaccata a un revolver calibro .22 nella sua lavanderia, oltre a due grandi macchie di sangue che corrispondono al suo DNA su un materasso di gomma piuma e sulle pareti di un camper presente nella fattoria. Trovano la testa, le mani e i piedi di Serena in un secchio all'interno di un congelatore. Il suo DNA è anche all'interno del secchio con all'interno i resti di Mona, l'altra vittima identificata. Il suo sangue è su una borsa da sci contenente due siringhe nell'ufficio di Willie. Un inalatore prescrittole viene trovato all'interno della borsa da sci e altri quattro inalatori nella spazzatura fuori dal camper di Willie, insieme ad altri documenti del Revenue Canada a suo nome. Willie viene accusato di nuovo il 2 aprile per altre tre vittime e di nuovo per una sesta vittima il 9 aprile. Si aggiungono altre nove accuse di omicidio nel 2002. Successivamente nel 2005 vengono sollevate altre 12 accuse di omicidio contro Willie, mentre le prove apparentemente iniziano ad accumularsi. Parliamo quindi delle prove che hanno trovato di queste vittime. La prima è Marnie Frey, viene vista l'ultima volta il 30 agosto 1997. La sua mascella viene trovata fuori dal macello. Georgina Faith Pappin viene vista per l'ultima volta il primo marzo del 1999. Vengono trovate le ossa delle sue mani, sepolte vicino alla porcilaia, sotto una piattaforma nel macello. Brenda N. Wolf viene vista l'ultima volta il 5 marzo 1999. Viene ritrovata la sua mascella in un mucchio di detriti nell'ex porcilaia. Il suo DNA è presente su una giacca di pelle nell'armadio della camera da letto di Willie. Il suo DNA viene trovato anche su delle manette, una delle quali ha anche il DNA di Willie, nel sottotetto della casa. Andrea Josberry viene vista per l'ultima volta il 5 giugno del 2001. Vengono ritrovati la sua testa, le sue mani e i suoi piedi in un secchio all'interno di un congelatore. Viene trovato il suo DNA su un orecchino e un anello ritrovati al macello, su una giacca di nylon e su degli stivaletti di pelle nera, nella camera da letto di Willie. Viene inoltre trovato il suo DNA sulla parete del bagno e su una federa nella lavanderia di Willie. Diane Malenic viene vista l'ultima volta il 22 dicembre 1995. Viene trovato il suo DNA sulle pareti del congelatore. Tanya Holly viene vista l'ultima volta il 29 ottobre 1996. Viene trovato il suo DNA sulle pareti di un congelatore. Cara Ellis viene vista l'ultima volta nel gennaio del 1997. Il suo DNA viene trovato sulla giacca di Willie che la polizia ha sequestrato nel 1997 in seguito alla presunta aggressione di un'altra passeggiatrice. Viene trovato un biglietto di preghiera con il suo DNA, i foglietti delle sue visite mediche e un orologio da polso con il DNA di Willie su uno scaffale del macello vicino ai gioielli di Josbury. Andrea Borheven viene vista l'ultima volta il 10 marzo 1997. Viene trovato il suo DNA sullo stivale di gomma di Willie, sequestrato dalla polizia nel 1997, sempre in seguito alla presunta aggressione di un'altra passeggiatrice. Il suo DNA è presente anche su un orecchino in un sacchetto di plastica della spesa, pieno di altri gioielli, nascosto in uno sfiato del pavimento della cucina di Willie. Sherry Irving viene vista l'ultima volta il 18 marzo 1997. Helen Mae Hallmark viene vista l'ultima volta il 15 giugno 1997. Viene trovato sia il suo DNA che quello di Willie in uno schizzo di sangue sulla porta dell'armadio della camera da letto. Altro DNA viene rilevato su un cappello da cowboy nell'armadio della camera da letto di Willie. Cynthia Files viene vista l'ultima volta il 26 novembre del 1997. Il suo DNA è quello di Inga Hall, viene rilevato in nove pacchi di carne di maiale macinata nel congelatore. Carrie Kosky viene vista l'ultima volta il 2 gennaio 1998. Viene individuato il suo DNA su un paio di orecchini in un sacchetto di plastica della spesa, pieno di altri gioielli, nascosti in uno sfiato del pavimento della cucina di Willie. Inga Hall viene vista l'ultima volta il 26 febbraio del 1998. Il suo DNA è quello di Cynthia Files, viene rilevato in nove confezioni di carne di maiale macinata nel congelatore. Vengono anche trovati dei ciuffi di capelli in un sacchetto di plastica su uno scaffale nel macello. Sarah Davis viene vista l'ultima volta il 13 aprile del 1998. Viene trovata una borsa bianca nel sottotetto in casa di Willie, che contiene dei rossetti con il suo DNA e un preservativo usato con il DNA di Willie. Angela Giardine viene vista l'ultima volta il 20 novembre 1998. Viene rilevato il DNA sulle pareti del congelatore. Jacqueline McDonald viene vista l'ultima volta il 21 gennaio del 1999. Viene trovato il suo sangue e il DNA di Willie sulle manette appese alla testiera del letto dell'uomo. Viene rilevato il suo DNA su un orecchino in una scatola di cartone nell'armadio della camera da letto di Willie. Tiffany Drew viene vista per l'ultima volta il 20 agosto del 1999. Viene rilevato il suo DNA su una seringa trovata nell'ufficio di Willie. Wendy Crawford viene vista l'ultima volta il 24 novembre del 1999. Viene trovato un osso parziale della gamba che era stato tagliato in una cisterna di acqua e reflue fuori dal macello. Jennifer Lynn Ferminger viene vista l'ultima volta il 27 dicembre del 1999. Viene trovato il suo sangue su una giacca di pelle marrone nell'ufficio di Willie, su un pullover con un cappuccio pesante nella lavanderia e un orologio su uno scaffale del macello. Il suo DNA viene anche rilevato su una maglietta nera in un mucchio di detriti nell'ex porcilaia. Debra Lynn Jones viene vista l'ultima volta il 21 dicembre del 2000. Viene trovato il suo sangue su una borsa nera e su un tubo rotto trovato ai piedi del letto di Willie. Le chiavi attaccate alla borsa sono imbrattate nel suo sangue e aprono una stanza d'albergo nel Surrey affittata dalla donna scomparsa. Patricia Rose Johnson viene vista l'ultima volta il 27 febbraio 2001. Viene trovato il suo sangue su un compensato nel macello. Il suo DNA viene rilevato su un oggetto che serve a procurarsi piacere nella camera di Willie. Heather Bottomley viene vista l'ultima volta il 21 marzo 2001. Viene rilevato il suo DNA nel secchio con i resti di altre donne scomparse nel congelatore. Viene trovato il suo DNA su una collana nera rotta al macello. Quattro macchie del suo sangue vengono trovate sul tessuto del materasso del letto di Willie Picton. Anche il DNA dell'uomo è sullo stesso tessuto. Il suo documento d'identità e il taccuino sono su un tavolo accanto alla televisione nella camera da letto di Willie. Heather Chink viene vista l'ultima volta il 15 aprile 2001. Viene rilevato il suo DNA nel secchio con i resti delle ragazze scomparse nel congelatore. Il suo DNA è presente anche su una tuta nell'armadio della camera da letto di Willie. Inoltre il suo DNA è presente su un braccialetto, un anello d'argento e su una giacca di camoscio in una scatola sotto una porta in casa di Willie. Diane Rock viene vista l'ultima volta il 19 ottobre 2001. Viene rilevato il suo DNA sulle pareti del congelatore. La sua borsa viene trovata in un bucchio di detriti nella vecchia porcilaia e contiene un preservativo annodato e pieno di liquido con il DNA di Willie. Inoltre viene rilevato il suo DNA su un mozzicone di sigaretta, una panca e su un gradino del camper di Willie. Nel 2007 un'accusa viene ritirata per mancanza di prove e le sei condanne di Willie arrivano a dicembre. Le autorità alla fine sospendono le indagini per i restanti 20 casi nel 2010. Alla fine Willie Pickton viene condannato per sei volte. E converrete con me che c'è un'enorme discrepanza tra il numero di persone che Willie ha affermato di aver ucciso per non parlare della quantità di DNA delle persone scomparse trovate nell'allevamento di maiali e il numero totale di condanne che alla fine ha ricevuto. Alla fine il DNA di una donna viene trovato sulla sega di Willie. Gli effetti personali di 20 donne scomparse vengono ritrovati nella sua proprietà. Il DNA di 10 donne viene trovato nel congelatore, ma non ci sono altre tracce delle vittime. Willie viene condannato all'ergastolo senza condizionale. Questo vuol dire che morirà in prigione. Dopo l'arresto di Willie, diverse persone iniziano a farsi avanti e a parlare con la polizia di ciò che stava realmente accadendo in quella fattoria. I figli delle vittime intentano una causa civile nel maggio 2013 contro il Dipartimento di Polizia di Vancouver, la Royal Candian Mounted Police e la Corona per non aver protetto le vittime. Raggiungono un accordo nel marzo 2014 in cui ciascuno dei figli delle vittime doveva essere risarcito di 50.000 dollari senza ammissione di responsabilità. Molte di queste famiglie non avranno mai alcun tipo di risoluzione, non sapranno mai cosa è davvero successo ai loro cari. Sia chiaro, solo perché avevano vissuto vite difficili, fatte di dipendenze, non significava che Willie avesse il diritto di togliere loro la vita. Detto questo, miei cari e miei care, io ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Conoscevate questo caso? Io no, l'ho scoperto grazie al suggerimento sul Google Docs. Fatemi sapere, insomma, cosa pensate di questo caso. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!